Ciao Booklovers, vi ringrazio tantissimo per i messaggi che mi avete mandato riguardo allo scorso video e adesso sto un pochino meglio, non ancora al top, ma per quello ci vorranno ancora dei mesi comunque va meglio. Eccomi invece qui oggi per il wrap up di libri letti ad aprile. Sto cercando adesso di tornare ai wrap up mensili per avere meno libri di cui parlare e di conseguenza fare video anche meno lunghi. Il mese di aprile è andato abbastanza bene per quanto riguarda le letture, ho letto non tanti libri quanto avrei voluto, però l'importante come sempre è la qualità e ad aprile ho avuto una sola delusione quindi va benissimo così. Come al solito per fare riferimento alla lista dei libri di cui vi parlo oggi vi rimando giù in infobox dove c'è la tracklist con il minutaggio cliccabile e poi se scorrete nell'infobox ci sono anche tutti gli altri miei dati relativi ai social e quant'altro. Ma adesso bando alle ciance, parto subito con il wrap up e inizio dai libri di narrativa generale per poi passare successivamente ai thriller e agli horror. Il primo libro che voglio assolutamente farvi conoscere perché si tratta di un esordio letterario è Amatissimi di Cara Wall, edito Fazzi. Il pregio più grande di questo romanzo è il suo stile di scrittura, è il primo romanzo dell'autrice ma lo stile di scrittura è davvero impressionante, tanto maturo che non ha davvero nulla da invidiare ad autori già famosi e talentuosi e anzi in alcuni casi devo dire che la scrittura supera alcuni grandi autori. Ovviamente nel caso dell'edizione italiana qui un plauso va anche all'ottima traduzione che ha avuto una resa splendida. È un romanzo americano di vita vera, una realistic fiction che abbraccia il periodo degli anni 50, 60 e 70 e che narra la vita di quattro personaggi legati poi tra loro da vari eventi, dall'amore e dall'amicizia, andando a toccare varie tematiche come la vita di coppia, la fede religiosa e le divergenze caratteriali. È un romanzo di sentimenti, di famiglia, una storia tranquilla di vita vera, di stampo tradizionale, dove vi sono famiglie tradizionali composte da persone con pregi e con difetti e dove si dibatte molto sulla religione e sulla fede religiosa. E questa è una caratteristica un po' insolita per me o meglio, io non sono solita leggere storie dove la religione è una tematica così predominante, così centrale e in questo libro di pareri sulla religione ce ne sono tanti, però devo dire che non sono a senso unico perché ci sono sia personaggi credenti che non credenti. Per il resto non è che ci sono chissà quali colpi di scena memorabili, questo non è un romanzo per chi vuole l'azione alla suspense, ma come nella vita vera succedono ovviamente alcuni eventi drammatici che mettono a dura prova i personaggi. L'inizio poi è davvero sfolgorante, la presentazione dei vari personaggi sublime e poi sono caratterizzati stupendamente, risultano molto diversi gli uni dagli altri. Diciamo che la prima parte di questo romanzo è proprio la parte che ho amato di più, poi con la crescita dei personaggi si assiste ad una sorta di stabilità della storia che risulta levemente meno appassionante e devo dire che il finale proprio nelle ultimissime pagine arriva un po' troppo improvvisamente relazionato al ritmo cadenzato della storia ed è questo l'unico piccolo difetto che mi sento di evidenziare perché diciamo che l'ho percepito come se l'autrice si fosse accorta ad un certo punto di essersi dilungata troppo e avesse tirato proprio le fila in un solo colpo. Questo per me è davvero l'unico difetto del romanzo perché come vi dicevo la scrittura è davvero stupenda, ricca di riflessioni importanti che mi hanno indotta anche a mettere un bel po' di segnapagina qua e là, non so se riuscite a vedere ma ho evidenziato vari passaggi, parecchi passaggi anzi. E poi le tematiche importanti che vengono affrontate sono innumerevoli perché oltre alle varie tematiche esistenziali e alla già citata tematica sul credo religioso c'è anche la tematica del lutto, della difficile prova della maternità e vi è anche la tematica dell'autismo che negli anni in cui è ambientato questo romanzo era una sindrome davvero poco conosciuta e ingiustamente demonizzata. Questa per me è stata davvero una splendida storia di vita vera e per me sono quattro stiline e mezzo su cinque. Se cercate un romanzo tradizionale ad ampio respiro con una scrittura davvero ottimale e dei personaggi realistici con questo libro potete andare veramente sul sicuro. Poi sempre di tuo fazio ho letto un altro libro anche se in questo caso non si tratta di una novità, Gli anni della leggerezza di Elizabeth Jane Howard. Questo è il primo volume della saga familiare inglese dei Casalè. Questo primo volume è ambientato nel 1937 e 1938 e segue le vicende dei componenti della numerosa famiglia dei Casalè. Io sto recuperando questa saga già molto famosa della quale avevo già sentito tantissimo parlare grazie al mio gruppo di lettura che è partito da aprile e nel quale leggeremo un libro della saga al mese. E nonostante con le saghe familiari vada davvero molto cauda perché non si tratta assolutamente della mia comfort zone, perché non tutte mi appassionano, anzi ho avuto varie delusioni in passato, questa invece l'ho trovata stupenda. È senza dubbio la migliore saga familiare letta finora. Però se volete iniziare questa saga vi do un consiglio. I personaggi sono tanti e alcuni lettori hanno difficoltà a ricordarli, però se vi stampate la lista dei personaggi, che si trova tra l'altro a inizio libro, che è questa, secondo me risolverete il problema. Perché sì che la lista c'è a inizio libro, però fare sempre avanti e indietro rispetto magari al punto dove state leggendo, secondo me è scomodo. Invece se ce l'avete a disposizione in un foglietto volante è meglio perché comunque io ad esempio leggevo e questo foglio lo usavo addirittura come segnalibro, quindi ce l'avevo sempre davanti. E quindi non mi sono mai arenata sui personaggi, devo dire. Io con questo metodo mi sono trovata benissimo e confusione sui personaggi zero. E comunque c'è anche da dire che i personaggi sono caratterizzati splendidamente, ognuno di essi ha una spiccata personalità, ognuno è diverso dagli altri, sembra proprio di fare conoscenza con persone reali. La struttura narrativa è corale e narra in terza persona, secondo i pov di ogni personaggio, spostandosi frequentemente da uno all'altro. E io diciamo che questa struttura narrativa l'ho proprio adorata, perché mi ha proprio offerto una visuale allargata sulle vicende della famiglia, anche di personaggi magari non proprio della famiglia, ma relazionati alla famiglia, e ha fatto sì che mi appassionassi tantissimo alle loro vicende. La scrittura della Howard è poi per me la perfezione, bella ed armoniosa, fluente e vivida, mai forzata, mai artefatta. Poi sicuramente, come avevo detto anche per il libro precedente, un plauso va anche alla traduzione italiana, che ne ha esaltato le qualità. Altra caratteristica di questo libro che ho apprezzato è il periodo storico, pochi anni prima della Seconda Guerra Mondiale, un periodo di incertezza per il futuro, ma anche di speranza e dispensieratezza, perché comunque i personaggi credevano che la Seconda Guerra Mondiale potesse essere evitata. Noi lettori, leggendo dal futuro, sappiamo che non è così e questo fa veramente male, però rivivere quel periodo è un monito per il nostro presente, e penso che leggere questi libri adesso sia un'esperienza ancora più intensa, ecco. Sono poi contentissima che questa saga sia composta da ben cinque volumi, quindi letto il primo, me ne rimangono ancora quattro, che leggerò presto, e per me sono cinque stiline su cinque, è stata senza dubbio la migliore lettura di aprile. Poi ho letto Amore e furia di Samantha Silva e di Tonneri Pozza, che è un romanzo ispirato alla vita di Mary Wollstonecraft, la madre di Mary Shelley, ed è una sorta di biografia romanzata. A volte c'è da dire che con le biografie romanzate bisogna stare attenti, perché può succedere che magari il livello di finzione superi la realtà dei fatti, però in questo caso invece posso affermare che Amore e furia è un romanzo documentato splendidamente, e tutti gli avvenimenti descritti nel libro, relazionati alla vita della Wollstonecraft, trovano poi la debita correlazione agli eventi reali. L'autrice si è attenuta il più possibile alla storia della Wollstonecraft, esaltandone al meglio i pensieri e la sua personalità. Un lavoro a mio avviso davvero superbo, che anche tramite una narrazione vivida, appassionante, accessibile, permette finalmente a tutti di conoscere un'importantissima figura femminile, una proprio delle primissime fautrici del pensiero femminista. Perché infatti anche chi come me mal tollera solitamente il linguaggio eccessivamente freddo e distaccato dei saggi tradizionali e delle biografie di stampo proprio giornalistico, potrebbe invece trovare conforto in questo romanzo, dai contenuti infinitamente interessanti ed emozionanti e dallo stile scorrevole. Io ho davvero adorato questo romanzo dalla prima all'ultima pagina, e mi ha fatto anche commuovere in più punti, questo lo devo ammettere, perché la vita della Wollstonecraft è stata davvero una vita dolorosa e drammatica, con solo delle piccole ed effimere parentesi di felicità, che però sono state presto poi dissipate da vari eventi nefasti, che l'hanno profondamente segnato nell'animo e nello spirito. Mentre leggevo questo libro ho provato dentro di me davvero tanta rabbia, tristezza, senso di ingiustizia, ma anche l'amore, inteso come un sentimento ampio e puro, è una tematica importante nella vita della Wollstonecraft, insieme alla ricerca di se stessa e di un angolino di felicità, nonostante i tanti eventi avversi della sua vita. Il titolo, Amore e furia, è davvero perfetto per definire questo romanzo, il ritratto di un'anima definirei davvero irrequieta e pervasa dei troppi pensieri, una persona che definirei troppo sensibile e perspicace, per essere adatta a vivere in questo mondo. È stata una lettura intensa e bellissima, ho sottolineato molte frasi e molti passaggi, non so se si vedono i segnapagina che spuntano. Giusto sul finale avrei desiderato qualche decina di pagine in più, perché l'ultimo capitolo mi è sembrato un po' troppo sbrigativo rispetto al resto del libro e per questo la mia valutazione è 4,5 su 5. E passo adesso a libri di altro genere partendo da un thriller, Brava ragazza, cattiva ragazza di Michael Robotam e di Tofazzi. Questo è il primo libro della serie thriller poliziesca di Cyrus Haven. Ha una trama verticale che termina a fine libro, ma anche una trama orizzontale che immagino continuerà nei libri successivi e che riguarda i due protagonisti del romanzo. E i due protagonisti sono uno psicologo, Cyrus Haven appunto, che collabora con la polizia e poi c'è anche una ragazza dal passato traumatico, della quale non sappiamo neanche il vero nome. A causa di varie vicende i due avranno un punto di congiunzione nelle loro vite e la ragazza aiuterà in qualche modo lo psicologo nell'indagine dell'omicidio di una giovane adolescente. Una talentuosissima promessa del pattinaggio sul ghiaccio che oltre ad essere una ragazza modello era anche molto ben voluta, molto amata da tutti. L'inizio di questo libro è stato davvero intrigante, la storia mi ha presa subito, i personaggi principali sono entrambi carismatici ed entrambi hanno peculiarità che ho apprezzato. L'unico tra virgolette difetto è che la prima metà del libro è molto statica, introduttiva, forse perché essendo il primo libro di una serie c'era proprio bisogno di soffermarsi maggiormente sui personaggi che hanno entrambi un background notevole. Però c'è da dire che il ritmo narrativo rimane sempre molto dinamico e scorrevole anche nei momenti più statici della storia e così non è affatto faticoso proseguire con la lettura, anzi la lettura procede proprio fluida e scorrevole dall'inizio alla fine. Poi ad un certo punto, come avviene sempre il caso thriller, si complica e ovviamente nella seconda parte del libro si assiste a vari twist e a varie rivelazioni inaspettate per poi finire con un finale letteralmente al cardiopalma. In definitiva per me è stata una buonissima storia thriller con dei personaggi talmente interessanti che sarà davvero un piacere leggere i seguiti e che giudico quattro stiline e mezzo su cinque. Apro una piccola parentesi per dire che ho notato parecchia confusione riguardo al genere di questo libro che per me appartiene al genere thriller tradizionale con rimandi alla psicologia e alla salute mentale però per me non è un thriller psicologico. La storia racchiude tematiche psicologiche a causa del mestiere del protagonista e a causa dell'abilità della coprotagonista nel capire la verità e queste doti vengono anche usate per cercare di risolvere il caso, ok? Però il lettore non viene mai ingannato con giochi mentali che deformano la realtà facendogli magari pensare una cosa anziché un'altra. Infatti la differenza tra thriller e thriller psicologico è proprio che nel secondo il lettore viene psicologicamente ingannato però qui non avviene. Poi ho letto Una storia di fantasmi di Ellen McClory edito Il saggiatore e questa è una storia davvero fuori dall'ordinario. Il titolo potrebbe trarre un po' in inganno perché potrebbe far immaginare la classica diciamo storia di fantasmi con casa infestata però non è così. È invece una storia contemporanea e moderna con uno stile di scrittura anch'esso molto moderno e fuori dall'ordinario. una sorta di flusso di coscienza di tre personaggi che raccontano la storia secondo i loro punti di vista e il lettore assiste a tre punti di vista diversi riguardanti lo stesso arco temporale. In pratica la stessa storia viene ripetuta con ordine tre volte secondo tre visuali che danno versioni dei fatti davvero completamente differenti. E io devo ammettere che amo tantissimo quando accade ciò perché mi piace proprio rivivere la stessa storia più volte raccontata in maniera diversa. Adoro mettere a confronto le varie versioni e i vari punti di vista. E questa poi è una storia stranissima che narra di tre conquilini, una prodigiosa stampante 3D e un vecchio diario risalente al XIX secolo che viene rubato e che passa di mano in mano finché uno dei personaggi leggendolo e rileggendolo ne è ossessionato a tal punto che sembra esserne posseduto e fagocitato al suo interno. In realtà non ci sono fantasmi proprio nel vero senso del termine però il lettore avrà sempre il dubbio strisciante che vi sia qualcosa di sovranaturale che si sovrappone al reale. È una storia quindi di ossessione, possessione, esperienze extracorporee ed extrasensoriali e una storia del passato che rivive nel presente. Un mix davvero intrigante però indicato soprattutto a lettori sperimentali che non disdegnano il paranormale ma che non ricercano necessariamente la comfort zone del romanzo tradizionale. E aggiungerei neanche trame semplici e lineari con risposte ben definite. Il mio giudizio è di 4 stiline su 5, mi è piaciuto, mi ha davvero folgorata lo stile dell'autrice e l'unica pecca per me è che avrei desiderato più risposte soprattutto sul finale. Poi ho letto La fabbrica degli orrori di Ian Banks, edito Fanucci. Questo è un romanzo pubblicato per la prima volta negli anni 80 e adesso ripubblicato. Le premesse mi avevano entusiasmata perché appare come una storia molto cupa e malata che narra di un bambino e poi ragazzino cresciuto in una quasi solitudine su un'isola scozzese con un padre dedito a strani esperimenti scientifici e un fratello impazzito dopo un grave incidente all'ospedale. Ma anche il protagonista del libro, che si considera sanissimo, è invece il più malato di mente di tutti perché già da bambino ha commesso gravi crudeltà e addirittura ha ucciso alcuni suoi coetanei. Ovviamente queste sono le premesse di un romanzo molto estremo, adatto a lettori che simpatizzano per le trame malate, che proprio più malate non si può. Io devo dire che dalle premesse mi aspettavo una storia forte e disturbante come ad esempio American Psycho che nonostante la tematica malatissima avevo apprezzato parecchio. In realtà invece ho trovato la storia narrata in questo libro molto sopra le righe, però poco credibile. È tutto eccessivamente grottesco e le vicende si susseguono in maniera piuttosto noiosa con uno stile di scrittura piatto che non è riuscito minimamente a scalfirmi dal punto di vista emotivo. Io ho avuto la sensazione di leggere un romanzo figlio del suo tempo e purtroppo invecchiato male perché si sentono influenze post belliche mescolate al periodo hippie, viene esaltata una mascolinità tossica e violenta e anche descritti con minuzia di particolari i noiosissimi giochi di guerra a cui il protagonista si dedica quotidianamente. Vi sono digressioni infinite su ordini bellici, armi, trappole e strumenti di tortura che il protagonista produce da sé grazie ai tanti materiali che recupera sull'isola. Più che la fabbrica degli orrori a me sembrava di leggere la fabbrica delle armi e non mi è stato affatto chiaro come il protagonista riesca ad avere a disposizione tutto quel materiale e per me le parti dei giochi di guerra sono state confuse, noiosissime, mi sono persa innumerevoli volte nelle descrizioni infinite, insomma non mi sono piaciute. E penso che la cosa peggiore quando ci si aspetta un romanzo forte e disturbante sia annoiarsi. Ci sono stati in realtà alcuni sicarietti più interessanti, quei là, che sono riusciti a destare il mio interesse permettendomi così di non abbandonare la lettura. E sul finale vi è anche una rivelazione piuttosto sorprendente, anche se dai toni sempre grotteschi. Quindi in definitiva questo libro è stato sì una delusione, però non un disastro totale. Certo è che io non lo consiglierei a chi cerca una lettura forte e dai toni horror ma piuttosto lo consiglierei a chi ama il genere grottesco e bizzarro che è in assoluto il genere che riesce ad inquadrare meglio questo libro. Peccato aver avuto aspettative completamente diverse e per me sono due stelline e mezzo su cinque. Poi ho letto La casa maledetta e altre cupe storie e di notte entrambi di Grazia De Ledda ed entrambi editi per Caravaggio Editore. Grazia De Ledda è un'autrice italiana di origini sarde ed è la prima donna italiana a aver ricevuto il Nobel per la letteratura. Questi due volumi sono stati pubblicati dalla Caravaggio Editore in occasione del centocinquantesimo anniversario dalla sua nascita e per me è stata un'occasione di conoscere un'autrice che non avevo mai letto. La casa maledetta e altre cupe storie fa parte della collana dei classici ritrovati ed è una raccolta di dieci storie, cupe proprio come da titolo, che mischiano il paranormale alle credenze religiose, alle superstizioni e alle leggende popolari sarde. Sono racconti molto interessanti perché offrono uno spaccato dell'epoca sul territorio sardo sia dal punto di vista culturale che sociale e in più aggiungono quel tocco di esoterico che non guassa mai. Mi sono piaciuti moltissimo i racconti La leggenda di Casteldoria e Il castello di Galtellì perché narrano i due castelli medievali realmente presenti sul territorio sardo e ricchi di storia e leggende a sfondo paranormale. Bellissimo anche il racconto Lo spirito del male che tra tutti è quello che ho trovato più inquietante seguito dal racconto che fa da titolo alla raccolta ovvero La casa maledetta che narra di una casa su cui pende una maledizione dei precedenti proprietari e ha atmosfere oserei dire degne di Edgar Allan Poe. Di notte è invece una novella e fa parte della collana dei frammenti d'autore ed è una storia sempre a tinte cupe con varie tematiche però concatenate e vi sono la tematica della vendetta e dell'onore perduto ma anche la tematica del tradimento e anche la tematica dell'innocenza salvifica in grado di pacificare gli animi e poi ho trovato stupendo che la storia avesse sfumature un po' fiabesche che mi hanno ricordato le atmosfere esotiche delle mille e una notte e una novella davvero molto particolare. Quattro stelline su cinque a questa novella e quattro stelline alla raccolta di racconti ma giusto perché nella raccolta ci sono stati racconti che mi sono piaciuti di più e altri di meno però sono entrambi volumi validissimi per avere un assaggio di questa bravissima e talentuosa autrice italiana. E adesso wrap up terminato, i libri che ho letto sono stati questi sono otto in totale anche se uno era davvero piccolino e diciamo che nella mia TBR c'erano molti più libri però dai l'importante è avere fatto bellissime letture l'unica mia delusione è stata la fabbrica degli orrori però altrimenti sono soddisfattissima delle altre letture intraprese e io spero che ci sentiremo presto spero di fare un altro video di questo tipo tra un mese e poi sto anche lavorando per fare qualche altro video di qualche altro genere però ancora non lo so diciamo che ci sto lavorando poi si vedrà a presto e alla prossima ciao ciao